Siamo proprio orgogliosi. Hanno definito Napoli una città suggestiva, romantica ed unica. Penso che siano parole bellissime, parole proprio di verità sulla nostra città. Un premio per il suo fascino speciale e le sue peculiarità. La città di Napoli ha ricevuto lo Swiss Tourism Award 2023 nell'ambito del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze che si svolge a Lugano. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gaetano Manfredi e dal presidente della Commissione Consiliare Cultura, Turismo e Attività Produttive Luigi Carbone. Noi siamo andati alla Fiera di Lugano per stringere i nostri rapporti con la Svizzera, per presentare i nostri eventi, la nostra strategia turistica. Ci fa molto piacere che anche lì, anche in quel tipo, in quello Stato e in quel tipo di mercato possiamo presentare non solo le bellezze di Napoli ma anche la sua crescita dal punto di vista dell'accoglienza che è palpabile. Noi abbiamo migliorato la qualità delle nostre strutture, abbiamo migliorato come amministrazione comunale, la qualità dei servizi al turista. Abbiamo presentato una programmazione di eventi quasi totalmente gratuiti, sia come cultura sia come turismo, che possono offrire alle persone che arrivano nella nostra città un'ulteriore suggestione. E devo dire che anche dalle telefonate che ricevo di amici, parenti, conoscenti che vogliono trascorrere a Napoli qualche weekend, qualche giorno. E devo dire che stiamo veramente sul percorso giusto per fare di Napoli la capitale internazionale del turismo.